Vi do il benvenuto a questa riunione. Allora, alla base di quello che stiamo facendo c'è la rivista Svegliatevi del 93, il 22 aprile, pagina 14 e 16, dove dice questo articolo se qualcuno ha il dono della musica di poter suonare uno strumento, che è un dono che viene da Geova, dal nostro creatore, può metterlo a disposizione dei fratelli per intrattenerli. E questo è quello che cerchiamo di fare. Se ci sopportate, vorremmo cercare di intrattenervi. Allora, qui dice questo articolo che per coinvolgere il pubblico, dice che si possono distribuire copie del testo, della canzone, per far cantare insieme gli astanti. Quindi, per quel motivo avete i fogli, così se stasera volete potete sfogarvi, se avete un po' di stress.